Che cosa abbiamo raccontato con rinchiusi sedati? Abbiamo provato a quantificare quello che già in realtà si sapeva da tempo. I 25 anni di storia della cosiddetta detenzione amministrativa in Italia, avvocati, attivisti, persone che in qualche modo entravano in contatto con il mondo dei CPR, denunciavano l'abuso, il sovrautilizzo di psicofarmaci. Psicofarmaci in qualche modo necessari all'interno di strutture che appunto dovrebbero servire, dovrebbero aiutare l'esecutivo a finalizzare il rimpatrio di persone che si trovano irregolarmente sul territorio italiano, ma che non raggiungono questo scopo. Perché noi sappiamo che nel 50% dei casi le persone che transitano dai CPR non vengono poi effettivamente rimpatriati, ma vengono rilasciate. Parliamo di più di 6.000 persone nel 2022, persone che vivono all'interno di queste strutture giornate tutte uguali, l'una dall'altra, senza alcuna attività, spesso senza la possibilità di avere contatti con l'esterno. giornate in cui, come abbiamo raccontato in rinchiusi e sedati, lo psicofarmaco spesso diventa la soluzione al problema di come sopportare questi giorni. Abbiamo provato a quantificarlo facendo una semplice confronto tra una popolazione presa in carico da un'azienda sanitaria che si occupa di persone straniere irregolari, giovani, tra i 15 e i 45 anni di età, di provenienza simile a quella che troviamo nelle strutture di CPR. Abbiamo ricostruito come a Roma si spende in psicofarmaci 130 volte in più rispetto alla popolazione esterna sovrapponibile, a Torino 44 volte, a Caltanissetta, Pian del Lago 30 e a Macomere 25. Milano rappresenta un unicum nel sistema perché su cinque mesi di analisi di spesa dei farmaci il 60% delle scatole erano scatole di Rivotril. Perché è problematico non solo il quantitativo di psicofarmaci acquistati ma anche la lista dei farmaci? Perché all'interno delle spese effettuate dagli enti gestori, ricordiamo che i CPR sono gestiti da enti privati che vincono, si aggiudicano un bando emesso dalle prefetture. Ebbene all'interno di queste liste noi abbiamo ritrovato anche farmaci come la quietapina, l'olanzapina, il pregabalin, che sono antipsicotici previsti per gravi disturbi come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Quindi delle due o l'una o all'interno del CPR noi abbiamo persone affette da gravi patologie psichiatriche oppure evidentemente questi farmaci vengono utilizzati con obiettivi sedativi rispetto alla popolazione detenuta nelle strutture. Ebbene noi abbiamo presentato questa inchiesta ad aprile su invito dell'On. Maggi alla sala stampa della Camera dei Deputati sono nate 5 interpellanze al Ministro Piantedosi e al Ministro Schillaci per chiedere chiarimenti rispetto ai dati che avevamo ottenuto e soprattutto a chi c'è nei CPR e come viene monitorata la somministrazione dei farmaci. Queste interpellanze non hanno ancora ricevuto risposte. Se ne sono aggiunte nel frattempo altre 4 sempre legate ai CPR in cui vi era comunque il richiamo alla somministrazione di psicofarmaci ma per ora tutto tace. Tutto tace tranne una risposta che il Ministro Matteo Piantedosi ha rilasciato indirettamente alla Sette in cui di fatto ha negato la sedazione di massa all'interno dei CPR dicendo che le persone che sono all'interno dei centri necessitano di quei farmaci. Questo nonostante un regolamento che sicuramente non ha forza di legge primaria ma che comunque è indicativo un regolamento a firma del Ministero dell'Interno dichiari come chi ha patologie psichiatriche chi è sotto trattamento a seguito di forme di dipendenza non potrebbe fare ingresso in questi centri. E quindi evidentemente la presenza di questi farmaci ci racconta come se davvero queste persone hanno bisogno di quei farmaci queste persone non dovrebbero stare all'interno dei centri. Chiudo velocissimo e mi spiace per alcune semplificazioni che ho fatto nella presentazione breve il nuovo governo come sapete punta tutto insomma sul sistema dei CPR e nell'ultimo decreto del 19 settembre si sottolinea come sia il Ministero della Difesa incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture. Queste opere vengono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Ecco per un giornalista che si occupa insomma e prova a raccontare i CPR questo è un campanello di allarme perché sistematicamente alle richieste di accesso civico quindi alle richieste di accesso ai dati le prefetture richiamano vagamente norme di tutela dell'ordine pubblico di sicurezza nazionale e quindi l'impossibilità di fornire i dati per questi motivi questa insomma aggiunta all'interno del decreto del 19 settembre è da monitorare perché non è chiaro se riguarda solo la progettazione e la costruzione o se poi ricadrà a cascata anche sulla possibilità di accedere ai dati. Chiudo con Lorenzo Figoni che è coautore dell'inchiesta abbiamo riprovato a fare le richieste sui 5 CPR che ci mancavano perché i dati erano solo su 5 e a mesi di distanza nuovamente c'è stato detto una volta che i dati non potevano essere forniti per tutela dell'ordine pubblico per privacy dei trattenuti c'è stato detto che i dati non c'erano c'è stato detto di richiedere all'ASL insomma la confusione regna sovrana proprio nel momento in cui queste cose vanno conosciute vanno raccontate e soprattutto vanno a nostro avviso quantificate vogliamo delle risposte precise su come vengono utilizzati questi farmaci su chi c'è all'interno dei centri e soprattutto su come si vuole gestire insomma anche i nuovi che si andranno a costruire grazie